Qualcosa mi dice che Picchi ha squartato la lobby Siamo morti tutti Ok ragazzi, schioccate le dita e mettete mi piace Secondo i miei calcoli, questo video fa paura Ecco, magari lasciatemi in paura Porca puttana Cosa è successo? Salve, io sono GameTime, siamo con Frustinox e Fraros e Mr. Teletornati Su Among Us dal Dark Web Per vedere PeppaPig.ex Ciao Ciao ragazzi A 10.000 mi piace come per il video scorso su Cartoon Cat Vi spiego come fare, è tutto in live Come fare per vedere PeppaPig.ex e altri mostri qua dentro Senza mod, ci sono delle procedure Li vedete come immagini ma ci sono Gioca online, io l'ho già fatta prima delle procedure Quindi posso scrivere benissimo Ok, start Ci sono Tele, tele, porca vacca Ci abbiamo 5 minuti e te sei ancora al bagno? 5 minuti Ma non abbiamo 5 minuti Ma esatto, dobbiamo andare alle spaziazioni Abbiamo 5 minuti, abbiamo circa 60 secondi moltiplicato per 100 No, 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 adesso passa Oh, computer, se non fai mentale ti ammazzo, eh, ti ammazzo, eh Computer, oh Finalmente, porca vacca, ci metto io a consegnare gli esami del quinta superiore E non l'ho ancora fatta Benvenuti nel video Voi siete la mia ciurma In realtà siamo di Fraros Perché è lui che la crea Tra l'altro guarda che io gli luoghi l'ho scelti bene Perché Fraros è travestito da militare Pronti, pronti Vediamo, vediamo cosa succederà oggi Cosa ci aspetta Cosa ci aspetta su Among Us Chi sarò Chi sarò C'è astronauta di me Ma raga, ma siamo un sacchissimo Ma, e quanti impostori ci sono? Oddio Eh, uno Ma uno con 15 crewmate Dopo metti ne due Andiamo avanti, andiamo, andiamo, andiamo Ok, qua c'ho la mia prima task La faccio Plap, plap, plap Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è il mostro che vorreste vedere la prossima volta E vi ricordo il mi piace per avere un tutorial Andiamo, andiamo Andiamo Vado io davanti con i miei colpi sulla testa Vai, andiamo, andiamo Ma io devo fare la task qui Ti faccio da scorta, ti scordo Grazie, io sono l'investigatore È vero Io sono l'impostore Si addice però come ruolo È vero, perché dentrovi le cose e poi E poi mi caga posso Ok, io faccio le task tecniche perché sono uno che studia E conosco C'ho Fraros la scorta, per un attimo pensavo mi avesse killato Allora Trosinox è il tuo turno È morto in rosa Ragazzi Sono morti qua Secondo me Secondo me Secondo me ragazzi Questi qua Fraros Ma è serio con il No, Fraros era come faceva la guardia E te ne non era con noi Ragazzi Fatemi indovinare Io so di non esserlo perché so di non essere stato io Aspetta Mr. Tele Apro il terzo occhio Apro il terzo occhio Secondo me è stato il viola che ti copia la skin con la skin robotica Secondo me è lui Secondo me è Fraros No Infatti era con me Lui non si è mosso Il cadavere è stato reportato da Indie Indie Io non è che Io ho un'armatura Un'armatura creata da me stesso È stato il viola Anche me Perché mi ha copiato i colpi Ha copiato mezza skin di Di Fraros e mezza skin di Frost Secondo me è lui Allora va per il viola dai Vediamo Anche se tanto il nostro voto non vale niente Non vota Sus Tutti votano purple Anch'io La credo di la partita va Ok ragazzi Schioccate le dita e mettete mi piace questa Comunque non è che è crashato impostore Perché Peppa Pigolo ha mangiato Eh può essere Perché eravamo tutti distratti a cercare chi fosse veramente Forse lei ha preso le Secondo i miei calcoli Questo video fa paura Ecco magari lasciatemi in paura Forza bussana Cosa è successo? Iscito Ma? Ho preso un colpo talmente tanto enorme La gente è uscita Mi sa che hanno preso il jumpscare pure loro Le cuffie mi sono volate sul braccio Dico solo questo Ho preso un jumpscare talmente tanto potente Che le cuffie sono volate sul braccio Ma scusa ma che hai visto? Che ho visto? Sì Chi non ho visto? Io ho visto un jumpscare Non ho capito neanche chi era Ah Sicuramente non ho capito chi mi ha jumpscareato Ma mi sono cagato veramente tanto in mano Raga ho le mani qua eh Come faccio a spengermi le luci da dietro? Oh che cosa è successo? Hanno sabotato il communication È il viola È il viola Mi stava aspettando Che ti è arrivato? Mi hanno chiuso Sono il purple e fraros Se mi hanno chiuso con loro No io sono qua No non è vero sei tu Non è vero io sono No io Non sono io Non sono io Guarda che Vi esco aperte Sono aperte Sono aperte Allora stiamo insieme No vabbè È lui è lui è lui È la gran peccata è lui Mi chiede così Mi potete facciare cosa devo dire io È lui È lui ride E si arrabbia Quando dice che è lui Quindi è lui Come è? Tele Se sei l'impostore Dimmi chi è il tuo amico E lo faccio votare al posto tuo Sennò dico di votare te Non sono io Chi ti vuoi è l'impostore? Io voto Sono io Votate Il mio occhio mi dice che il verde è un impostore Ma perché froso è abbandonato? Non è vero Ma di dieci persone nessuno di noi quattro è capitato impostore Era tele Era tele Ora voteranno tutti me Ora voteranno tutti me Non posso Ma è tele Stavo cliccando watch Era l'impostore Allora c'è anche il marrone Anche il marrone è l'impostore Anche il marrone Anche il marrone È troppo susse che il marrone l'ha detto di votarlo a caso Anche il marrone Oh L'ha fatta apposta Si è mosso e poi di colpo ha messo le robe apposta Ha vinto il rosa Per tele Che è una merda Vivente Te lo dico Fai cagare Ai cinesi che mangiano i popcorn rossi È nato verde Ma perché cazzo Che cazzo Qualcosa mi dice che Picchi ha squartato la lobby Siamo morti tutti Ragazzi siamo morti tutti Stanno segnalando tutta l'intera lobby Ragazzi condividete lo schermo Voglio vedere No raga io devo creare un'altra stanza qua Ha startato ha startato Questo è un segno Questo è un segno E quindi che facciamo Sono io Ok sei da Si però fatemi vedere se vedo peppapiglio.ex Ok vai vai Facci vedere Perché al momento Sono impostore Abbiamo fatto di tutto Perché io capitassi impostore Se qualcuno dice di votarmi Votate tutti lui Perché Però la niente Oh ma dai Le gambe Ah ho tirato una ginocchiata contro Sono un cretino Perché mi sono cagato addosso E ho tirato una ginocchiata Contro la scrivania Per sbaglio Ma ti è comparso un peppapig Sullo schermo? Boh ho visto il flash E mi sono cagato addosso Perché non a me sono abituato Eh vabbè E lì Allora Sai lontano da me Perché lo so che sei l'impostore L'ho anche detto Ma no voglio un po' Testare un gas dal telefono Oh C'è Peppa C'è Peppa Corri 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 che ci raggiunge Corri Corri C'è una freccia Ma andiamo verso la freccia Andiamo verso la freccia Ok Ragazzi ragazzi Cos'è importante Andate a fare la tasca dell'elettricità Così almeno C'è andata La luce Forse è vero Forse è vero Forse lei c'è andata per quello Ok ragazzi Il vostro forstix tecnico Ha raggiustato la luce Bravissimo Ragazzi ma tranquillo Se lo vedete Chiamatemi Che cosa sei? Ah sei tu Ok Tale Tanta Tanta Pumque ragazzi Se di confare Chiamatemi Che prendo Prendo la mia massa E la picchio La pesto Chiamatemi Chiunque 좋 Ditemi che non ce la nessuna telecamere Mi ha visto Mi ha visto Sono sicuro No 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 Putiamo bibi Putiamo bibi 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 Allo Dite che sasse Dite che sasse Che dice Bagionate Mi ha visto Sbotolare No, come? Oddio, raga, c'è Biggie Dove lo vedi? Dove lo vedi? Oddio, ragazzi, mi sta mangiando Oddio, ragazzi, no, ragazzi Fraros, Fraros Sei morto? Sì, sono morto Mi ha fatto quittare È finita la partita, tra l'altro, eh Hanno vinto gli impostori Comunque, da notare Che la luce si è spenta Mi ha fatto un jumpscare e mi è venuto scritto Le tue azioni avranno conseguenze Eh, ma infatti Mi ha fatto crashare, mi ha mangiato Ok, andiamo C'è Biggie.exe fuori Sei andata Succedono cose strane Vedo una crepa, vedo cose strane Si aprono cose strane nella mappa E niente Hanno sabotato Oh, guarda, ma Biggie è qui Nel spazio, oddio Luci, 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 luci Ah, scusatemi Mi ero scordato di dirvi di guardare qua Perché potrebbero succedere cose strane Anche nello schermo qua Ok, andiamo, 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 andiamo 9, 5 Esci fuori Esci fuori, Frostinox Esci da qua adesso So che sei tu Esci 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 No No, volevo fare una scena Mi son cagato addosso Ho fatto leggermente un volo dalle scale del quarto piano Grazie, Frostinox Faccio compagnia a Tele Vieni, Tele, vieni Oddio Cos'era? Fulmini Sento solo i fulmini di Minecraft Vedo tanta luce Vedo tantissima luce Dove sono? A questo punto Se è questo video Vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Scrivetevi al canale Tra la campina Di tutti i costi Io Da GameTime Fraros, Frostinox E Mr. Tele Purtroppo Bye Ciao Qui trovi la visione completa Con cui puoi continuare La visione di questa fantastica serie Qua trovi un video Che può interessarti moltissimo E qua trovi il tasto iscriviti Fai tu la scelta Ma resta su GameTime E qua trovi un video